Musica Musica Sembra, non ripeto un po' un mattero perché è una cosa a cui credo cercamente è la corsa più dura del mondo e del paese più bello e noi dobbiamo riuscire ad essere oggi qui a Trento e al Fese Mundo Sport in occasioni analoghe, noi l'abbiamo misurato sul campo, l'abbiamo misurato quindi che cosa significa? Significa che quello che restituiamo è la vista di quello che effettivamente è successo informazioni, qui abbiamo visto oltre 1.400 questionari compilati, 55 in site, significano 50 15 milioni sono la spesa e la spesa legata al ciclo organizzativo in grandi eventi, in sedia all'interno, 121 euro di spesa giornaliera pro capite media ma anche in un vero e proprio turismo, 34% l'incidenza dei perdottamenti sulle presenze turisti che va, vivite i rettori e per i belli spesi abbiamo detto che succede qualcosa nei successivi sui domini in giro 830 milioni delle spese turistiche non abbiamo motivo di credere che saranno anche, sicuramente la regione Lombardia per una regione come la nostra che ha un territorio, una pianura straordinaria per dei siti UNESCO veramente incredibili abbiamo l'ambito da rispettare, sicuramente da ripetere sicuramente anche perché il grafico è un territorio così vasto come quello che è la nostra regione